Una parte dei nostri concittadini, questo è il punto, si sente oggi più minacciata, meno protetta e cerca risposte a questa sensazione di minore protezione nella riscoperta delle proprie radici e della propria identità che tuttavia molto spesso si rivolge alla riscoperta di sentimenti ipersovranisti o addirittura nazionalisti. Questo credo sia il punto fondamentale della situazione in cui ci troviamo, la crisi che scava, la risposta a questa crisi in soluzioni che di per sé sono comprensibili. Quando ti senti minacciato, quando senti venir meno la protezione, cerchi risposta nel tuo luogo, nella tua radice, nella tua identità. Ma se la tua identità diventa chiusura, se la tua identità diventa ostilità verso le differenze, se la tua identità diventa contrapposizione nei confronti dei vicini, qui ci sono le premesse per ripetere esperienze terribili della nostra storia europea, come ha ricordato il Presidente Napolitano nel suo intervento. Non siamo indulgenti verso la tendenza della riscoperta identitaria, verso il nazionalismo e la contrapposizione tra i diversi Paesi. Sono processi di cui possiamo vedere la nascita, ma che se non fermiamo in tempo faremmo fatiche a fermare quando si sono affermati e sviluppati più del dovuto.